Hostel capitolo 1 di The Fear and Skip Room è senz'altro una proposta innovativa, un format interessante per ciò che riguarda i giochi di fuga nella capitale. L'esperienza avrà inizio immediatamente e non avrete contatti con lo staff della struttura. La vostra vacanza di piacere si tramuderà presto in un incubo macabro e claustrofobico in cui sarete vittime di un carnefice senza scrupoli. Questo escape room è sicuramente efficace su soggetti molto impressionabili. Il T-Building sarà fondamentale per concludere il primo capitolo della storia. Hostel, essendo un concetto ibilito tra escape e real movie, non presenta una grande quantità di enigmi e alcuni di essi risultano molto intuitivi. Pertanto è consigliata sicuramente a gruppi poco esperti, poiché i team molto rodati e soprattutto amanti delle classiche escape room potrebbero sentirsi poco coinvolti. Abbiamo riscontrato una ricerca del realismo quasi ossessiva, una buona e costante presenza attoriale oltre alcuni spedienti scenografici interessanti. Gradevoli gli ampi spazi di gioco. Non classifichiamo però questa esperienza come genere horror, ma bensì thriller. L'atmosfera e la tensione che si respirano, secondo noi, possono ancora alzarsi di livello. L'epilogo di questo primo capitolo non è autoconclusivo. Stuzzicherà la vostra curiosità di vivere il secondo o vi lascerà interditti? Stuzzicherà la vostra curiosità di vivere il secondo o vi lascerà interditti?